Passo Fedaia, anche se io ogni tanto la chiamo Marmolada, Marmolada perché la montagna che sovraste il Passo Fedaia, è una salita che non ho mai sopportato, perché sai il Pordoi ha i tornanti così come lo Stelvio, il Passo Fedaia da Malga a Ciappela ha questo rettilineo che non finisce mai, ci saranno un chilometro e mezzo, non so neanche quanto, però hai questo schilip sulla sinistra che ti verrebbe voglia di prenderlo, però invece devi andare su in bicicletta. La ricordo personalmente nel giro del 1989, era una giornata tremenda, parliamo del Giro d'Italia, si partiva dal lago di Misurina, si scendeva Cortina, freddo, pioggia, anche un po' di neve proprio sul Passo Fedaia, si affrontava il Jau, poi si scendeva, si faceva un'altra salitella, si scendeva e poi c'era il Passo Fedaia, che non era l'ultima salita, perché poi bisognava anche andare a fare il Pordoi e il Campolongo, arrivo a Corvara, è stato l'anno del duello Giupponi-Fignot, vinse quel Giro d'Italia il Francese, Laurent Fignot, e io ricordo che sul Passo Fedaia, naturalmente ero staccato, non ero tra gli ultimi, avevo avuto 50-60 corridori davanti, ma fumo colpiti da una bufera di neve lassù in cima e io ad un certo punto mi tolsi il guanto per andare a prendere un panino nella tasca della maglia e persi il guanto e non ho avuto l'accortezza di tornare indietro per riprenderlo, praticamente ho avuto dei problemi perché la mano si è gelata, mi ricordo che in discesa ero veramente infrezzolito, non ne potevo più e per vedere dove avevo la mano e soprattutto per frenare la mano destra, controllavo se la mano era sul freno e poi tiravo il braccio, ero completamente insensibile, cioè proprio avevo perso il controllo sulla mia mano e ricordo che quando sono arrivato a Canazei ero con Piovani, che era compagno di squadra di Saroni, ad un certo punto Piovani mi ha passato una borraccia che era calda, era un tè caldo, il problema che il tè era stato corretto con del whisky e che alla fine appunto per cinque minuti mi ha veramente riscaldato, che poi però io essendo a STEMI ho avuto problemi nel salire il Pordoi, bene o male comunque sono arrivato in cima, ecco questa è stata la mia prima esperienza sulla Passofedaia. Un'altra esperienza molto più bella e importante è stata quella di Marco Pantani nel Giro d'Italia del 1998. Allora quando tu cominci il Passofedaia puoi arrivarci a Malga Ciappela o dalla Statale o da questa stradina che secondo me è una tra le più belle d'Italia dei Serrai di Sottoguda, in quel Giro d'Italia pensarono bene di affrontare la salita passando per il Serrai di Sottoguda. Pantani correva nel mercatone 1 e aveva chiesto consigli a Roberto Conti. Roberto Conti, suo gregario, fortissimo in salita, romagnolo come me di Bagnara di Romagna, gli spiegò più o meno com'era l'avvicinamento al Passofedaia, ha detto guarda facciamo la Statale, la salita comincia leggera, dopo due gallerie arrivi a Malga Ciappela e lì comincia il tratto più duro, quello secondo me è il posto giusto per attaccare. Ok, quindi fanno la tappa, arrivano praticamente ad un certo punto, solo che non facendo la Statale, quindi non facendo le gallerie, facendo Sottoguda ad un certo punto, Sottoguda è già una salita dura perché ci sono delle pendenze che sono veramente toste, a un certo punto proprio su questo rettilineo, dopo Malga Ciappela, quindi la salita era già cominciata da un po', Pantani va da Conti e gli dice scusa ma, scusa ma quando comincia la salita? Ma stasì, su un altro, la salita è già cominciata da un po', ah ok e quindi Pantani quando sente così da Roberto Conti si alza sui pedali e scatta e va a staccare Pavel Tonkov, con lui rimane Guerini, quel giorno facevano il passo fedaia, scendevano, facevano il sella e arrivavano in selva a Val Gardena e Pantani conquistò la maglia rosa, per dirvi che andava talmente forte in salita e non sarei neanche accorto che la salita era cominciata, eh!